Ad oggi siamo a 2017 giorni trascorsi dalla data di consegna dei lavori all'impresa e ANAS dice che siamo al 90% dei lavori eseguiti. Per questo i rappresentanti del Comitato dell'Albera hanno chiesto informazione alla provincia sul primo tratto della tangenziale realizzata a nord-est sulla mancanza ancora di alcuni elementi strutturali importanti dell'opera, tra cui la piantumazione di una barriera vegetale, di mitigazione ambientale, il progetto esecutivo del raccordo con la caserma del DIN e l'interdizione formale ai bicicletti di percorrere la bretella per ragioni di sicurezza. C'è da fare un tratto ancora di barriere fonoassorbenti, ancorché venga ultimato il lavoro per entrambe le piste ciclabili che corrono ai lati della bretella e quindi c'è l'alternativa anche da questo punto di vista.